Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. In questo nuovo video faremo degli esperimenti per così dire. Per questi esperimenti si servono dell'olio, l'aceto, non so se è quello balsamico e dell'acqua. Il primo esperimento che andiamo a fare sarà dove dovremmo mettere dell'acqua in un bicchiere, io tengo quello della Nutella perché è bello, poi l'aceto, se non va bene mi scuso perché non so qual è l'aceto, si vuole quindi preparata proprio al massimo solo, e dell'olio. E che bello, mi sa che non funziona, che bello. No, funziona, funziona. Come potete vedere, anzi come non potete vedere perché non vedete, comunque l'olio sta galleggiando perché è meno denso, diciamo, dell'aceto e dell'acqua, e quindi credo proprio che l'aceto sia il più denso, scusate se mi sbaglio. Poi, questo è un altro esperimento che hanno fatto sempre me contro te, questo l'hanno fatto me contro te, dove dovremmo lasciare un uovo in ammollo 24 ore su dell'aceto, spero che vada bene l'aceto balsamico. E così l'uovo diventerà gommoso, diciamo, cioè dovrebbe diventare gommoso. Spero che funzioni, poi vi faccio sapere domani se ha funzionato. Se non ha funzionato è un fail comunque. E questo è. Poi magari farò anche altri esperimenti, però purtroppo ora non posso farli, perché se no esplode tutto, e quindi non posso. Intanto saluto un tizio che mi ha chiesto di salutarlo, che se non sbaglio si chiama Ale Contu, mi sembra, non lo so. Comunque il suo commento l'avete visto. E quindi vi faccio sapere come andrà l'esperimento con l'uovo, se sarà una catastrofe oppure funzionerà. Vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto. E alla prossima, iscrivetevi e lasciate un like. Ciao!